in questi minuti, non è detto che finirà così. Gioca una palla lunga, si propone in mezzo, riceve il passaggio, decide di sfruttare la fascia. Scodella il cross e va a colpire di testa, che cosa ha fatto? E eccola la giocata più importante della partita! Un cross perfetto, non poteva sbagliare, c'era scritto basta spingere. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace, la traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Rooney con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione.